e Slovenia che piomba a meno 15 risponde 8.30 sul cronometro del secondo periodo qui al Palaciantoma la schiacciata internazionale under 20 memoria al Vigile Silvestro trofeo Bepi Meneghin il Palaciantoma in questa seconda gara del trofeo internazionale under 20 di Domece memoria al Vigile Silvestro trofeo Bepi Meneghin Bepi Meneghin Bepi Meneghin Babilito 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 A DL Babilito